Ha preso il via a Palazzo Vidman la serie di conferenze stampa sul bilancio 2012. Il vicepresidente della provincia Cristian Tomasini insieme all'assessore Florian Musner ha illustrato le priorità nei rispettivi ambiti. Il primo tema al centro dell'attenzione è stato quello relativo all'edilizia abitativa. 450 nuovi alloggi sociali, prosecuzione dei bandi, concretizzazione del modello Bausch-Paren, sussidio unico per gli affitti. Sono queste le priorità elencate dall'assessore provinciale Cristian Tomasini per quanto riguarda il settore dell'edilizia abitativa nel 2012. La priorità per il 2012 sarà quella di portare avanti e di accelerare i nostri programmi di realizzazione di alloggi sia popolari che in cooperativa, di sostegno all'acquisto e di sostegno all'affitto, pensando in particolare a nuovi programmi per quanto riguarda le nuove generazioni, in modo che le nuove generazioni possano, i giovani che entrano nel mercato del lavoro, pensare già da subito a quello che è la propria pensione, ma anche a mettere da parte le risorse per arrivare ad una casa in proprietà. Capitolo scuola. Oltre all'applicazione della riforma provinciale delle superiori, il 2012 si annuncia come l'anno delle lingue, con una serie di iniziative mirate al raggiungimento dell'obiettivo di un vero plurilinguismo. Abbiamo lavorato moltissimo sul potenziamento delle esperienze plurilingue, in particolare per quanto riguarda scuole dell'infanzia e scuole elementari. Nel 2012 vorrei e vorremmo concentrarci sugli scambi linguistici fra le scuole di diversi gruppi. È importante che i nostri ragazzi, i nostri studenti si incontrino, si scambino esperienze e pratichino la lingua anche nella vita di tutti i giorni. Sempre in tema di risorse economiche per il 2012, l'assessore Florian Musner ha indicato una serie di misure congiunturali con un doppio effetto. Da un lato garantire a società ed economia le necessarie infrastrutture, dall'altro favorire il rilancio delle aziende locali. La banda larga giocherà un ruolo da protagonista. Abbiamo anche quest'anno la possibilità di avere a disposizione un importo molto cospicuo e quindi una certa costanza negli ultimi quattro anni che ci dà la possibilità di operare con le priorità. E una priorità è senza altro quella della tematica relativa alla banda larga, sulla quale vogliamo fare tutto il possibile per raggiungere quello che ci siamo prefissati entro il 31-12-2013. e quindi abbiamo previsto appunto 9 milioni di euro, un importo consistente e mai così alto come quest'anno. Le piste di intervento nelle opere pubbliche sono due, soddisfare le priorità soprattutto in tema di sicurezza e privilegiare piccoli ma funzionali interventi in determinate località. Per quanto concerne i restanti soldi, questi vengono investiti in grande parte per l'ultimazione dell'inceneritore di Bolzano che va visto anche come un investimento in tecnologia nuova, in innovazione, per i risultati in campo energetico che questo comporterà. Un'altra misura avviata dalla Giunta attraverso il bilancio 2012 riguarda la velocizzazione dei pagamenti alle aziende con l'obiettivo di assicurare loro la necessaria liquidità in modo da non peggiorare una già critica situazione di crisi economica.